Ci spostiamo verso Todi, dove invece si è appena conclusa una settimana di stage ambiental musicali organizzati dall'Istituto Agrario e rivolti ai giovani provenienti da ogni parte d'Italia. Dopo il lavoro alla Cittadella Agraria, i giovani musicisti si sono esibiti al Convento di Montesanto guidati da esperti di fama, ospiti d'eccezione il compositore Manara e il manager Raimondo Astarita. Anche un saggio finale molto originale e suggestivo di Body Percussion, dove l'unico strumento musicale è il proprio corpo, la propria voce, un lavoro emozionante diretto dal maestro Pantaneschi.